Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Che esibizione curiosa Incappare bastardo Laggiù eccolo addosso fatelo Per quanto riesce a correre Lasciami andare ti prego Non morirò in modo disonorevole Non è solo Non è solo Non è solo No Unitevi a me e ci riprenderemo Roma Abbiamo deciso di leggere Papa della Rovere Ci dispiace Ma ho pagato per la vostra nomina Roma non è più la stessa di prima Il denaro dei Borgia non è più ben accetto Vi pentirete di questa decisione Un assassino! Via! I seguaci a pagamento vi offrono il loro sangue Ma quando cercate aiuto, vi si rivoltano contro Guardie! Ora, vedetelo! Valeva la pena di morire per questo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! I miei uomini dicono che Cesare sta radunando i suoi soldati migliori davanti alla porta principale di Roma Riunite gli assassini Lo affronteremo insieme